Eccoci con Orestis Carnezis, sempre più bandiera di questa Udinese. Orestis, la tua analisi della partita, è arrivato a un punto importante contro la Fiorentina? Sì, è vero, era un punto molto importante per noi. Abbiamo giocato contro una squadra di più forte in Italia. Loro hanno giocatori di alto livello. Per me va bene, è un punto, però potevamo vincere. È peccato per noi, perché abbiamo fatto una gara incredibile secondo me. Era una partita molto aperta. Abbiamo preso due gole in due minuti. È male per noi, però dobbiamo continuare con lo stesso modo. Dove può migliorare questa Udinese, secondo te, anche in vista delle prossime partite? Sicuramente dobbiamo migliorare, però abbiamo creato tante occasioni. Prima la partita che abbiamo giocato non abbiamo creato tante occasioni. Questo è un punto positivo per noi. Abbiamo giocato contro una squadra molto, molto forte. Abbiamo creato tante occasioni per fare gol e per vincere. In generale, però, resti e se vedi comunque una squadra in crescita, una vittoria, due pareggi, anche oggi con la Fiorentina? Sì, è vero, siamo in un buon tempo. Abbiamo creato punti, volevamo di più, sicuramente, però il calcio è così. Dobbiamo continuare come abbiamo giocato oggi. Se continuiamo così, possiamo fare meglio, sicuro. Non abbiamo creato tante occasioni, questo è un punto positivo per noi. Abbiamo giocato contro una squadra molto, molto forte. Abbiamo creato tante occasioni per fare gol e per vincere. In generale, però, resti e se vedi comunque una squadra... Eccoci con Orestis Carnezis, sempre più bandiera di questa Udinese. Orestis, la tua analisi della partita è arrivata a un punto importante contro la Fiorentina. Sì, sì, è vero, era un punto molto, molto importante per noi. Abbiamo giocato contro una squadra di più forte in Italia. Loro hanno giocatori di alto livello. Per me va bene, è un punto, però potevamo vincere. È peccato per noi, con lo stesso modo. Ecco, dove può migliorare questa Udinese, secondo te, anche in vista delle prossime partite? Sicuramente dobbiamo migliorare, però abbiamo creato tante occasioni. Prima la partita è che abbiamo fatto una gara incredibile, secondo me. Era una partita molto aperta. Abbiamo preso due gole in due minuti. È male per noi, però dobbiamo continuare.